In Puglia la percentuale dei bambini e dei ragazzi fino a 17 anni in povertà relativa supera di molto la media italiana, il 32% rispetto al 20%. A rilevarlo è il settimo atlante dell'infanzia di Save the Children. Secondo le indagini la povertà diffusa e i servizi mancanti che spesso caricano tutta la spesa sulle spalle delle famiglie hanno portato il mezzogiorno d'Italia a percentuali più alte delle medie italiane. La ricerca sottolinea poi che i bambini pugliesi dai 6 ai 17 anni che non hanno visitato musei o siti archeologici sono più di 4 su 5, mentre 3 su 4 non sono andati a mostre o musei. In Puglia inoltre i dati dei minori in comuni con dissesto riequilibrio finanziario sono particolarmente allarmanti. Contro una media nazionale del 7,4%, nella provincia di Foggia i minori che vivono in comuni con dissesto riequilibrio finanziario sono il 26%, mentre in quella di Taranto toccano addirittura il 33,6%.